Mancano nove giorni alla scadenza fissata per la Brexit e si cerca un accordo, è l'ultima ora per un rinvio. Allora noi andiamo a Londra dal nostro corrispondente Marco Varvello. Sì, tre mesi in più prima di uscire dall'Unione Europea, lo chiede il governo britannico, l'ha chiesto la Premier Theresa May con una lettera al Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk. Sostanzialmente May chiede una proroga rispetto a questa scadenza ormai impossibile del 29 marzo che poi è venerdì della prossima settimana. Da parte di Bruxelles lo stesso Tusk ha risposto velocemente poco fa nel pomeriggio ed è una risposta non accomodante nel senso che i vertici europei dicono si può anche concedere una proroga ma deve essere breve e tecnica e già la scadenza nuova del 30 giugno crea problemi rispetto alle elezioni europee e soprattutto la proroga deve essere condizionata a che cosa? All'approvazione di questo accordo che anche Theresa May si era impegnata a sottoscrivere con Bruxelles e invece la Camera dei Comuni ha già bocciato due volte. Quindi rimangono dei punti molti da chiarire perché riuscirà Theresa May a far passare alla fine questo accordo e poi la proroga deve essere anche approvata da tutti e 27 i paesi dell'Unione all'unanimità. Insomma ancora molti punti da chiarire come dicevo. A te la linea.